...405, Montana, Martina, Pia, 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 Pia e S.O.S.M.A. ...interpretare dell'azienda di Nicola Fatti e a seguire avremo S.O.S.M.A. 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 Fata bene il fuoco! Spalle, vai, vai! S.O.S.M.A. 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 Sì 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 Guarda a destra Guarda guarda il cittadino attento, la maglia polografica ricollega spalle passa bene diritta spalle passa bene diritta vai un pollo scegliere venuta lascia bene diritta e guarda il piano basta guarda Cominci a guardare in fondo. Stai ferma con le mani. Grazie, Anna. Aspetto. Grazie, Anna. Aspettiamo la risposta di più uscire. 69 e mezzo. E' qua però non è vero. Brava, amore. E' giusto. Giudica la prestazione di pachina con 69 e mezzo. Yeah! Grazie. 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 Grazie.